Musica Mercoledì 16 novembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Sono le 7.30 e siamo in diretta per dare uno sguardo, sfogliare velocemente i giornali che sono in dedicola oggi, il Carlino e il Corriere Adriatico Allora, il santo del giorno, oggi è una santa che si chiama Gertrude di Elfta Vergine, il sole è sorto alle 7.04 tramuntare alle 16.42 Il tempo, cielo sereno poco nuvoloso con aumento delle nuvole medio-alte dal pomeriggio Avremo le minime in diminuzione, le massime in aumento, i venti al mattino molto deboli per divenire di brezza leggero tesa da sud nel pomeriggio Il mare sarà quasi calmo, durante la notte e al primo mattino Attenzione alle gelate diffuse nelle vallate dell'interno, nel fondo valle Quindi, attenzione, se non avete ancora cambiato le gomme Se siete con delle gomme un po' così così della macchina Fate attenzione perché sono le prime gelate e ancora non si è abituati Quindi occhio al pedale del freno Giovedì 17 novembre, domani avremo un cielo poco nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità Dal pomeriggio in serata possibilità di brevi piovaschi sul settore centro-settentrionale della regione Vedete il settore del Monte Feltro Le temperature in aumento Attenzione per venerdì 18 novembre Cambia ancora, deboli piovaschi sulle zone interne ed occasionali anche altrove Può darsi anche che queste piogge si sposteranno fin verso la costa del Pesarese Le temperature sono in aumento I venti anche forti lungo la costa nella giornata di venerdì Poi ancora deboli fenomeni di instabilità per la giornata di sabato Sabato seguiti da un miglioramento più duraturo a partire da domenica La fiction su Lucia Nibali In primo piano sul resto del carino di oggi Tutto come previsto Io ci sono, questo è il titolo La fiction che prende spunto dal libro su Lucia Nibali L'avvocatessa pesarese sfregiata dall'acido In anteprima verrà proiettata la Camera dei Deputati Questo film a Pesaro ci sarà una proiezione anche per le scuole Nella mattinata del 22 novembre Con Cristiana Capotondi Che è l'attrice che interpreta Lucia Ma senza l'avvocatessa invece vittima dell'agguato con l'acido Questo è il titolo La fotografia, la fotonotizia in apertura Poi opere compensative dell'A14 Cantieri aperti forse tra un anno A fine mese il via libera ministeriale alle varianti C'è anche la circonvalazione di muraglia Parliamo evidentemente di Pesaro Morso in pista da ballo Gli stacca la falange Alla sbarra il Tyson della disco La vittima chiede 21 mila euro di danni La pagina di Fano L'appello di Eda Madre di un bimbo apolide Presidente Grasso Pensi anche a mio figlio A tre anni questo bambino non ha la cittadinanza né i diritti Chiedo un po' di dignità Il sindaco si mobiliti da troppo tempo Infatti questa donna attende risposte dallo Stato italiano A parlare è una ragazza madre di 25 anni Con un passaporto albanese Che sebbene sia in Italia e a Fano da 22 anni Ha questo bambino che però non ha ancora la cittadinanza Per un cavillo burocratico E lei sarà venerdì ad attendere il presidente Grasso Che invece sarà a Fano appunto per l'altro bambino Quello che è nato lo ricorderete su un barcone Poi la notizia, un lutto, un altro pezzo di storia di Fano Che se ne va, era conosciuto infatti per Carlo Gasparelli Lo riconoscete sicuramente dalla fotografia Il barbiere che amava i quadri Dopo aver combattuto contro una terribile malattia Se ne è andato a 76 anni Gasparelli, il barbiere gallerista Un appassionato d'arte Un innamorato della propria città I funerali, scrive il resto del creno di oggi Saranno nel pomeriggio alle 15 in Duomo In Cattedrale a Fano Domenica apre sapori e aromi d'autunno Ma il Codma è un luogo desolato Fragomeno accusa amarezza La regione pensa solo ad affittarlo Perché va detto che il fungo Così come viene anche soprannominato Questa struttura al Codma di Rosciano È di proprietà della regione Quindi è la regione che deve intervenire Per sistemare e quant'altro Insomma, la regione pensa solo ad affittarlo Questa è l'accusa di Fragomeno Una mostra di foto dei luoghi del terremoto Inoltre lasagne solidali Per le popolazioni colpite dal sisma Stiamo parlando in particolare di Arquatta del Tronto Ci sono i rilievi invece da parte dell'Arbam Sul lattice sversato che ha inquinato alcuni pozzi Sono preoccupati infatti i residenti delle frazioni Che da Novilara arrivano a Fenile Perché giovedì scorso un'autocisterna Si è ribaltata in A14 Sversando nei dintorni parte del suo contenuto Di lattice liquido E in questa immagine vedete la fotografia Di un piccolo laghetto Che è praticamente bianco Il colore del lattice Che è fuoriuscito dalla cisterna Sorpresa Il PD fanese rilancia Chiaruccia Sull'ospedale unico Bacchiocchi Spariglia Chiederemo a Seri che sabato difenda quel sito Sabato è stata convocata la conferenza dei sindaci E dunque si voterà Almeno così sono ormai tutti Quasi tutti d'accordo I grillini con il lutto In consiglio comunale Il funerale del Santa Croce Ormai è una certezza E il sindaco Dicono i grillini Non fa nulla Un'auto contro un bus Disagi per i passeggeri La fotografia Vedete riguarda questa piccola utilitaria Che si è scontrata su una fiancata Dell'autobus Siamo nei pressi del foro Boario Nessun ferito Qualche disagio per il traffico E i passeggeri che sono stati trasportati In un altro mezzo I carabinieri arrestano uno spacciatore 31enne Da un controllo Siamo a Fossombrone Da un controllo casuale Gli uomini dell'arma hanno scoperto Che invece aveva della droga Andiamo sull'ultima pagina Del resto del Carlino Per Natale Andiamo all'interno Siamo a Orciano Per Natale il mercato torna in centro Commercianti felici Ma dal 19 gennaio Bancarelle di nuovo trasferite Sulla fusione che non c'è Se Montemaggiore vuole stare da solo Faccia pure Ma gli altri due si uniscano L'intervento del segretario regionale Della Cisla Todaro Serrungarina e Saltara Procedano e dunque Vadano avanti anche senza Montemaggiore al Metauro Dice il sindacato La pagina di Fano Del Corriere Adriatico Invece è sulla pediatria Che viene trasferita Effetto domino per il sisma Al Santa Croce Riorganizzazione anche per I reparti di Otorino Lungo de Genza E il day surgery La causa è L'inagibilità Del reparto Di migliori Si cercano Sinergie Ma non mancano malumori Anche sotto la cronaca Autovettura Contro un bus di linea Tanto spavento L'auto era appena uscita Dal parcheggio Il presidente del senato Affano Rende omaggio Al piccolo divan Il bimbo Nato in mare Riceverà la cittadinanza onoraria L'intervento Della mamma E sotto La cerimonia Venerdì Al teatro della fortuna In una festosa Corona Di bambini Di fanciulli Gli stranieri Affano Non aumentano Sono 4.500 Come 5 anni fa La nazionalità principale È quella albanese Pari ad un quarto Della popolazione Come ritrovare L'arte antica Della manualità Tra cibo e argilla È un progetto educativo Per i bambini Con corsi Con dei corsi Che sono stati Predisposti Con maestri Celebrati A vita Siamo a Serrungarina È una notizia Che arriva da Serrungarina Ed è una Arte molto bella Insomma I pediatri Spesso Insistono Nel far sporcare I bambini Nel farli giocare Nel farli cucinare Nel aiutare In cucina Nel fare Le cose Con le mani Per aiutare I bambini Appunto Nella manualità Valcesano Odissea Tra Pergolese Tra Pergola e Fossombrone Stiamo parlando Della strada I Barbanti Che è un percorso Di guerra Con tante frane Tanti dislivelli Il tragitto è devastato Dalle frane I comuni Si alleano Per cercare Adesso Di risolvere La situazione Qualche intervento Tampone Da parte della provincia È stato fatto Ma nulla Di risolutivo Quindi Davvero Per chi si sposta Tra Pergola e Fossombrone Passando Per la strada I Barbanti Insomma Sa di cosa stiamo parlando È un percorso Di guerra 5 stelle Invece Da Mondolfo Piano d'emergenza Inadeguato I consiglieri D'opposizione Accusano E obsoleto Va cambiato E aggiornato La memoria E siamo A Marotta Mondolfo La memoria Eroica Di 11 ragazze Resiste Nella cultura marinara Venerdì Il 99esimo Anniversario Dell'impresa Che salvò Il pontone Militare Fa di Bruno La scuola elementare Elabora I lavori Che tramandano L'esempio Di Erin E delle sue Amiche E questa è la celebrazione Che si svolse Lo scorso Lo scorso anno Poi andiamo Sull'altra pagina Quella di Senigallia Le luminarie Della discordia I commercianti Fanno da soli Non tutte le attività Hanno aderito E c'è pure Chi non è stato coinvolto Quando arriva Natale In ogni città C'è sempre Il problema Delle luminarie Sapete Che ognuno Deve pagare Più o meno Funziona così La sua luminaria Quella che sta davanti Al negozio Chi la vuole un po' più in su Chi la vuole un po' più giù Chi la vuole gialla Chi la vuole rossa Insomma È difficile mettere d'accordo Vedo che dopo Fanno Anche Senigallia Ha questi problemi Lunedì Incontro tra il Comune E le associazioni Per definire Invece le date Andiamo Sull'altra pagina Del Corriere Sempre da Senigallia Disoccupato Aiuta Gli sfollati La scelta Di un giovane papà Volontario Nelle zone terremotate Sono in attesa Di un'offerta Di lavoro Dice Ora sostengo Chi sta peggio Della mia famiglia Si chiama Francesco Tagliamonte E dice Mia moglie Ha capito Che avevo bisogno Di sentirmi Ancora utile Vedete Stiamo parlando Di Francesco Tagliamonte Che cuoce le castagne Per i terremotati Di Tolentino L'uomo a destra Sì L'ho cerchiato bene Allora L'ultima pagina invece È Quella da Pesaro e Provincia Montemaggiore Avanti con Serrungarina e Saltara Accoglie al Metauro Appello della CISL Fa discutere la fusione mancata Sguardi puntati Sulle mosse Di Montemaggiore Il sindaco dice Ancora Non abbiamo deciso nulla Ma lo faremo Al più presto Il tempo Infatti Stringe A case bruciate Più sicurezza Illuminazione L'intervento Grazie alla disponibilità Dell'IFI Di Tondi Tondi Ed è tutto Per la rassegna stampa Grazie per la vostra Cortese attenzione Vi ricordo questa sera L'appuntamento con Occhio alla notizia Il nostro telegiornale E poi il nostro numero 338 4968 250 Che potete utilizzare Anche con Whatsapp Anzi Vi Aggiornate L'applicazione Whatsapp Perché adesso C'è la possibilità Anche di fare Le videochiamate Che possono essere utili Anche per la nostra redazione Per trasmetterci Le immagini In diretta Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona giornata Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito